No, per la miseria, no, di nuovo, non ci posso credere, devo trovare, dov'è c'è? Devo chiamare il presidente, presidente, pronto presidente? Mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora? Muovi! Sei cazzo, sei! Ho messo! Pronto! Scusi la poca formalità della domanda che le stavo per porre, ma, presidente, dove cazzo si trova? Sto festeggiando Miami, che cazzo vuoi? Alfonsino non si fa vedere più da una settimana, festeggia con me, amico! Eh, eh, presidente... Che cazzo è il movimento, sei, cazzo, sei! Pre, presidente, presidente... Alfonsino è tornato all'attacco, proprio dieci ore fa! Cazzo, sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando! Dove cazzo è Alfonsino? Patate al forno! È San Valentino, quando c'è Alfonsino HD, è San Valentino! Everyday, porco! Oh merda! Non iniziamo per niente bene! Questa settimana ho girato per Genova nelle discoteche! 500 euro a serata! Blin, blin, blin! 500 euro a serata e vai in giro con la bandana Louis Vuitton Tarocca! Questi sono i veri big money, Alfonsino! C'è uno youtuber che guadagna molti più soldi di me! Eh, eh, qua siamo! Dai, chi è questo youtuber? Sai come si chiama? No, guarda, non ho proprio idea di chi cazzo sia! Ciccio Giver89, ce lo conosci, vero? Beh, che novità! A riparo, sta lanciando una cazzata! No, 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 scherzo, scherzo, falso allarme, falso allarme! Tutti quei soldi, invece che buttarli così a caso, così lui li butta a caso anch'esso, dateli a me, che ne faccio qualcosa di buono! Faccio qualcosa di buono per l'Italia! Oh, ma che schifo! Ma almeno avvisate, no? Io lo stato, gli sputo in faccia, voi invece vi fate mettere i piedi in testa, no? A sto giro ti ho fottuto, eh! Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video! Patata al forno! È tipo la quarta volta in un minuto che ha detto patata al forno! No, seguitemi su Instagram, perché... Followers, numeri, successo, popolarità, ne voglio di più, di più, di più, di più! Sì, sì, no, ma è giusto, è giusto! Andate nel suo profilo Instagram e non darlo di chi vince non perde in direct! E per concludere in bellezza, vi presentiamo una delle più grandi doti di Alfonsino HD. Ve la lasciamo proprio qui, senza nessun commento del presidente. Ecco a voi, Alfonsino HD, e la sua magica dote da pizzaiolo. Ah, ciccio! Porco Dio, stai ridicolo su Fortnite! Te ne sei reso conto, sì o no? Guarda io che cosa so fare, guarda! Guarda! Guarda, ciccio! Guarda!